Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare il trofeo dolore di una fucina caduta in Ghost of Tsushima. La prima cosa da fare è trovare tutti e venti i grilli. In questo modo sbloccherete l'ultima melodia per il flauto, ossia Lamento della Tempesta. Adesso dovete attivare Lamento della Tempesta e suonare il flauto davanti la tomba di Taka, che potete trovare praticamente nella seconda regione, ossia Toyotama, qui sulla destra, vedete? Sulla costa dove c'è anche il santuario del Picco Rigoglioso, qui, vedete? Prendete come punto di riferimento magari le rovine della città vecchia, quindi qui c'è anche il teletrasporto Tomba di Taka, quindi vi avvicinate alla tomba e una volta che avete attivato l'ultima melodia del flauto, sbloccherete il trofeo suonandola davanti alla tomba di Taka.